Non è più accurate, ma è il suo bello, non so come dire, cioè le grammatiche vigenti sui social network non sono quelle della scrittura, no? Cioè io ho un capitolo di un salto che ne darò l'editore, lo guardano, lo rileggono, lo smontano, lo cambio, qua invece non funziona così, ma è il suo bello, cioè non è un limite, le persone vogliono questo livello di spontaneità nei post sui social media, altrimenti no, va bene. La cosa più emblematica mi capita quando un cliente mi dice questo post è fatto troppo bene, Grazie.